ciao bambini oggi con i nostri amici del luna farm impareremo alcune parti del corpo la testa le spalle le gambe e i piedi siete tutti pronti allora dai testa spalle gambe e i piedi gambe e i piedi testa spalle gambe e i piedi gambe e i piedi occhi orecchi e bocca del nasi testa spalle gambe e i piedi gambe e i piedi testa spalle gambe e i piedi gambe e i piedi testa spalle gambe e i piedi gambe e i piedi Occhio, orecchio e bocca del nasì Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Bravissimi! E adesso più veloce! Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Occhio, orecchio e bocca del nasì Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Occhi, orecchi e bocca di nasi Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie E adesso lentamente Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Occhi, orecchie, bocca ed il nasi Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Bravissimi! E adesso, bambini, sempre più veloce! Siete pronti? Dai! Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Occhi, orecchie, bocca ed il nasi Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Occhi, orecchie, bocca ed il nasi Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie occhi, orecchie, bocche dell'osì testa, spalle, gambe e pie testa, spalle, gambe e pie testa, spalle, gambe e pie Ciao bambini! Vi è piaciuto questo video? Allora venite a trovarmi ogni ultimo sabato del mese a Luna Farm il parco divertimenti di Bologna per ballare insieme a me, Penelope, Martina, Ricky e Valentino Vi aspetto tutti! Ciao ciao!